Sono Ascanio, vengo da Cua, sono un pittore, un muralista, un serigrafo, in questo momento vivo e lavoro a Milano. Una delle cose interessanti della mia tecnica sulla pittura murales è la parte che porta una tecnica molto tradizionale, che è la tecnica del lavoro fatto a pennello, che non è lo spray, non è il graffitis. Il colore è magia, il colore è psicologia, c'è il colore, c'è tutto. Per me l'equilibrio è come mescolare un colore e avere un risultato. Lavorare sulle strade ogni volta che fai un murales è uno scambio diretto con il pubblico. Il pubblico chiede all'artista cosa fai, ma che colore stai usando. Ci sono tante domande, tante risposte che completano un'opera. Clive in the Future, che sarebbe Scalando il Futuro, è la mia serie che porto dal 2013. Questa serie rappresenta la mia icona, che sarebbe un uomino che si arrampica per sfidare il futuro. Ma l'ho fatto con due concetti. Un concetto per me, che sono l'autore, e anche per il pubblico che lo guarda. Che anche il pubblico o tutte le persone che mi circondano vogliono sfidare il futuro. La frase che mi rappresenta è che posso ottenere il equilibrio per me, è scaldare il futuro.